Ciao e benvenuto alla Rassegna del Cinema. Oggi riassumiamo un grande capolavoro cinematografico. Il film di Enric Wallmark è un commento sul nostro consumismo digitale contemporaneo, utilizzando diversi mestieri come una voce digitale, suono e una ricca varietà di tecniche visive veniamo portati in un luogo e in un tempo al di là della nostra vita quotidiana. La sceneggiatura è intrigante e offre, per non dire altro, un colpo di cena monumentale. Ogni spettatore può guardare in profondità dentro se stesso e fare una conoscenza oltre dei propri sogni. Consiglio vivamente il capolavoro di signore Wallmark, una donna in spiaggia.